e nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per un incendio sviluppatosi a Trieste verso le ventidue trenta di ieri e che ha coinvolto l'impianto di compostaggio rifiuti nella valle delle noghere sul posto i vigili del fuoco del comando di Trieste le squadre del distaccamento di Muggia e della sede centrale le fiamme in via del canneto nel comune di Muggia si sono sprigionati in una piazzola di scarico dei rifiuti destinata al compostaggio le cause sono da accertare un focolaio con oltre trenta positivi è stato individuato in una palestra triestina la struttura è chiusa dagli inizi di ottobre dopo il tampone che ha confermato il primo caso di covid ed allora Asugi ha provveduto a verificare operatori e utenti portando la luce un epicentro di proporzioni rilevanti con l'obiettivo di circoscrivere al massimo i contagi in essere nel comune di Sappada e spegnere i focolai la task force per l'emergenza covid-19 del Friuli Venezia Giulia riunitasi in videoconferenza si è aggiornata per valutare l'adozione di eventuali misure restrittive che potrebbero anche sovrapporse a quelle governative anticipandole almeno in parte all'incontro presieduto dal governatore Matteo Emiliano Fedriga hanno partecipato il vice governatore con delega della salute Riccardi sindaco di Sappada Manuel Pillerhofer il prefetto di Udine Angelo Cuni il professor Fabio Barbone del board scientifico nominato dalla regione nel corso della riunione sono stati illustrati i dati del contagio relativi a Sappada dal 3 settembre a oggi sono stati registrati 53 casi di covid-19 su una popolazione di 1315 abitanti movimentato episodio ieri su un autobus di linea urbano a Trieste una lite tra due donne dovuta al fatto che una non indossava la mascherina è degenerata al punto che si è arrivata ad uno scontro fisico dopo che erano scese in la piazza Goldoni la persona senza mascherina è stata soccorsa e trasportata a Cattinara le conseguenze fisiche riportate sono state comunque di poco conto sul posto oltre all'ambulanza intervenuto a una pattuglia dei carabinieri non è stata formalizzata una denuncia per quanto accaduto gli hanno aspettati l'uscita la chiusura dell'attività probabilmente certi che dentro quella 24 ore ci sarebbe stato un bel bottino quando le vittime sono uscite le hanno aggredite spintonandole facendole cadere a terra poi se ne sono andati con la valigetta sono stati attimi di paura quelli vissuti da padre e figlio titolari di un'agenzia per pratiche automobilistiche vedovato di via eh martire della libertà a mestre che si sono ritrovati in valia di tre rapinatori entrambi sono finiti all'ospedale con gravi ferite ad avere la peggio è stato il padre che rovinando a terra abbattuto la testa e riportato un trauma cranico serio con prognosi di 50 giorni questa iniziativa è importante perché rappresenta in concreto la volontà con cui l'amministrazione regionale pone in primo piano la difesa dell'ambiente non a caso infatti il Friuli Venezia Giulia è candidato a diventare regione pilota per la sperimentazione della strategia europea che mira a raggiungere un'economia con emissioni zero di gas a effetto serra entro il 2050 obiettivo al centro del Green Deal europeo lo ha detto a Triese l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocci Marro a margine dell'operazione di pulizia del canale del Ponte Rosso compiuta all'interno del progetto pilota al mare Friuli Venezia Giulia attraverso il quale l'amministrazione favorisce e supporta la raccolta di rifiuti dei fondali marini l'evento organizzato dalla società velica di Barcole Grignano rientra nell'ambito delle manifestazioni dell'edizione di quest'anno della Barcolana e lo scorso 3 ottobre era stato rinviato a causa del mal tempo sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso variabile con maggiore nuvolosità e tempo migliore nel pomeriggio sera di notte possibili nebbie sul Tarvisiano al mattino possibili nubi basse passiamo alla giornata di domani cielo da poco nuvoloso variabile con tempo migliore al mattino dal Veneto sereno poco nuvoloso oggi dopo il tramonto foschie con nubi basse nei fondovalli locali nebbie sulla pianura meridionale ed occidentale domani lunedì tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso foschie nebbie nelle ore più fredde sulla pianura e nelle valli temperature minime in pianura stazionari in locale diminuzione in montagna in aumento variazioni locali nei valori massimi previsioni a cura di ARPA FWG meteo e di ARPA l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto per il momento dal nord est è tutto appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti i nostri spettatori e di